Papa Francesca ha un'attenzione particolare per l'Aquila e per gli Aquilani che hanno sofferto e lo dimostra anche il fatto che la richiesta del Vescovo Osiliare, fatta il 4 giugno, è stata accolta ad agosto in tempi strettissimi. Lo ha detto il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila, nel consato incontro annuale con i giornalisti, alla presenza del Vescovo Osiliare Monsignor Antonio D'Angelo e il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, confermando dunque ai microfoni di Rete 8 che nutre una fondata speranza in relazione alla visita del Papa per la perdonanza. Il Papa dovrebbe aprire la Porta Santa il 28 agosto in occasione della perdonanza. Il programma di Massimo è già stato mandato in Vaticano da quel che si sa e nei prossimi giorni ci sarà un primo sopralluogo da parte della Gendarmeria Vaticana e del prefetto della Casa Pontificia per verificare la fattibilità della visita. Io nutro una fondata speranza che possa realizzarsi. Il Papa ha mostrato benevolenza paterna nei nostri confronti, quindi questa proposta ha trovato spazio nel suo cuore. Adesso bisognerà chiedere la grazia che si determinino quelle condizioni favorevoli che rendono possibile questo evento, perché voi capite che ci sono fattori indipendenti anche dalla volontà del Papa, con i quali bisogna fare conto, compresa la salute. Ecco, quindi mi auguro che possiamo tutti quanti gioire per questa visita che si avviene, sarà un evento epocale. Sulla cattedrale del Duomo in piazza, drammaticamente ferma al sisma del 2009, le ultime notizie sono che si sta verificando il progetto, la svolta potrebbe essere vicina. L'arcivescovo conferma che la vicenda è seguita con molta attenzione. Mi è stato detto che sperano di arrivare sulle corte distanze a concludere le procedure progettuali per poter avviare poi la gara per la realizzazione. Il tema dell'incontro è stata la comunicazione sociale, fare il bene e farlo sapere. Si fa troppo poco, ha spiegato il presidente dell'Ordine Pallotta, che ha parlato di una deviazione troppo spesso solo sulla cronaca e sulla sua spettacolarizzazione, ribadendo la crisi dell'informazione per motivi di varia natura. L'arcivescovo e il vescovo ausiliare hanno ribadito l'importanza della comunicazione sociale e il bisogno di ascolto anche con il cuore nella professione giornalistica. Il percorso che abbiamo intrapreso è un percorso che non ci sta portando a grandi risultati. La crisi è profonda e quindi dobbiamo in qualche modo modificare il paradigma nostro. Le responsabilità sono molteplici, però anche da parte nostra evidentemente c'è bisogno di recuperare quel ruolo fondamentale che è la responsabilità dell'attenzione, attenzione verso quei mondi che fino ad oggi non abbiamo assolutamente preso in considerazione, se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto soltanto per quanto riguarda l'evidenziare aspetti cronachistici spettacolari che non ci offrono l'opportunità invece di svolgere quel ruolo fondamentale che è la responsabilità dell'attenzione che ci consente anche di chiedere poi agli organi decisionali e agli organi istituzionali quella responsabilità decisionale che è propria loro, ma se viene meno questo nostro ruolo non possiamo pretendere dall'altra parte come dire un'altrettante importante decisione.